Avete presente la luce azzuroniola che si intravede nei reattori nucleari? Non è dovuta a impianti di illuminazione. Si chiama luce Cherenkov ed è un fenomeno che avviene quando una particella attraversa un mezzo a una velocità superiore a quella che ha la luce in quello stesso mezzo. Non più veloce della luce in generale dunque, che sarebbe contro le leggi della fisica, ma più veloce della luce in quel mezzo. Mezzo che nel caso dei reattori nucleari è l'acqua, ma può essere anche altro, per esempio l'atmosfera terrestre. Ed è proprio osservando la luce Cherenkov, prodotta nell'atmosfera terrestre dalle particelle ultraenergetiche provenienti dall'universo, che i telescopi Cherenkov sono in grado di studiare il cielo gamma, quello ad altissime energie. Telescopi come quelli della rete del futuro Cherenkov Telescope Array, da ormai imminente costruzione alle Canarie e in Cile. Per fare il punto sullo stato del progetto, Mediainaf ha intervistato il direttore del Cherenkov Telescope Array Observatory, Federico Ferrini. Beh, diciamo, stiamo progredendo direi piuttosto bene, dopo gli ultimi fatti che sono intervenuti, cioè la firma per esempio del sito sud, la programmazione di tutte le attività di costruzione, il fatto che le funding gadgets abbiano capito che dobbiamo procedere verso la costruzione di tutta l'infrastruttura che sopporterà i 118 telescopi, io direi che siamo in una fase di forte ottimismo, con ancora molti problemi da concludere naturalmente, in particolare quello del finanziamento, della costruzione, della pianificazione dei lavori, ma io sono decisamente più ottimista che nove mesi fa. 118 telescopi, ci diceva su due siti, allora ricordiamo anzitutto che tipo di telescopi sono, che siti sono e perché se ne stanno costruendo varie versioni, abbiamo capito, no? Dunque, ci sono una classe di telescopi grandi che hanno un diametro di 23 metri, il Large Scale Telescope, poi ci sono i telescopi medi che hanno un diametro di circa 14 metri, e ne abbiamo ben due prototipi per questi, mentre per il Large Scale Telescope abbiamo un solo prototipo, sviluppato da una collaborazione internazionale guidata dai giapponesi, sostanzialmente, per i medium size telescopi abbiamo due opzioni, una guidata sostanzialmente dai tedeschi e un altro un prototipo costruito dagli americani. Qui devono prendere delle scelte. Abbiamo anche due, forse tre tipi di camere diverse per raccogliere i dati da questi telescopi, di nuovo siamo di fronte a una problematica di scelta e cercheremo di utilizzare al meglio le analisi che vengono fatte, le esperienze fatte a questi prototipi per capire quale è più congeniale per l'osservatorio. E poi abbiamo i numerosissimi Small Scale Telescope, per i quali ovviamente abbiamo tre prototipi, quindi il gioco diventa ancora più complicato e naturalmente abbiamo deciso di cominciare l'analisi di riduzione di questa molteplicità di eccellenti soluzioni comunque, proprio dai Small Scale Telescope. E cercheremo di concludere questa analisi nei prossimi mesi. Tra i vari prototipi, almeno all'occhio di un profano, la cosa che balza gli occhi è che alcuni telescopi hanno un unico specchio, altri ne hanno due invece. Quello più grande, che è quello senza rivali diciamo... Più grande, diciamo, ha una sola zona di distribuzione di specchi. Gli specchi sono fatti a tasselli. In totale abbiamo stimato che ci vorranno più di 8.000 tasselli per coprire tutti i nostri 118 telescopi. Quindi diciamo, è un bel lavoro anche per le industrie che produrranno questi specchi. Dei medium-sized telescopi abbiamo d'opzione, una con una sola superficie riflettente e un'altra con doppia superficie riflettente, il prototipo americano. Per quelli piccoli abbiamo un'ipotesi con un prototipo con una sola superficie riflettente e due invece con doppia superficie riflettente, in particolare il prototipo costruito con i finanziamenti INAF e uno di questi con doppia superficie riflettente. Il prototipo Astri. Esatto. E sono ancora tutti in gara questi prodotti? Sono tutti in gara per ancora un paio di mesi perché noi alla fine di marzo questo panel di esperti indipendenti di grande qualità che abbiamo incaricato di analizzare le tre opzioni per il Mosaic Telescope concluderà, io spero, per la metà di aprile la loro analisi e spero che ci darà un risultato complesso perché le tre soluzioni sono tutte e tre valide, tutte e tre rispondono ai requisiti dell'osservatorio però chiaramente dobbiamo prendere una decisione, fare una scelta. E potrebbe esserci anche una scelta mista per esempio con la struttura di un telescopio ma l'elettronico e i rivelatori di un altro? Abbiamo invitato i tre progetti di cominciare a discutere tra di loro se si possono trovare delle soluzioni che permettano di affiancare tecnicamente idee brillanti che sono state sviluppate c'è stato un notevole progresso, devo dire, guidato dai colleghi di Astri Ultima cosa, dicevamo due siti, tre dimensioni di telescopi che però non saranno distribuiti in modo uniforme come sarà la distribuzione finale? Dunque nel sito sud, il deserto di Atacama è vicino ai grandi telescopi ottici di Paranalla ovviamente è di dimensioni molto vaste, è piatto e su esso distribuiremo 99 telescopi quattro di quelli grandi, una 25 di quelli medi e 70 di quelli piccoli. Nelle Canarie invece, nell'osservatorio dell'Aerocca del Mucciaccio, lo spazio è più limitato oltre ad essere estremamente accidentato per cui è anche difficile gestirlo dal punto di vista geomorfologico metteremo soltanto i grandi telescopi quattro più altri 15 medi, i piccoli no, saranno a concentrare soltanto nel sito sud. Dunque appuntamento diciamo a maggio per la decisione finale per saper chi ha vinto? Io direi con il Consiglio di giugno noi avremo la legittimazione da parte del Consiglio Io però spero di avere questo report già ad aprile in modo da prepararmi psicologicamente a tirar dentro tutti i colleghi qualunque sia l'esito della scelta. 5 minuti Grazie a tutti.